La seconda galleria del 52 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 Guarda qui, guarda qui, qua è bella alta, questa è la 9, della 11, sempre tutta in salita. Hai visto? Volevi venire qua a vedere la strada della 5 minuti di Valeria e chi ti ci ha portato? Gaeta, Gaeta, Gaeta. Questa era la dodicesima, la vi colpirò per sempre. Questa era la tredicesima. Saluta, tredicesima. Noi facciamo ferie, noi facciamo... Irrambicata. Thank you. Vienesettese, non? Questa è la milde. and here I'll push the food on just at this I'll go good morning this is the 17th I don't know how it is I don't know this is the 17th 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 here 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 we are here 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 We are swimming here we are fatto con la moto salendo, l'ho parcheggiato la moto là, proprio là, sul muro già, senti i diversi, vieni qua, sei matto, sei pacciarella come me, non guarda che ce ne sono un'altra quarantina, ti sembra breve la strada? Fammi una fotina, va, che, madonna che spettacolo, me la fai una foto io, vai, mi siedo tu, dai non guarda che spettacolo, non guarda che spettacolo. O canale sono, non guarda, non guarda che dove giocare, non guarda che spettacolo, fuori dalla ricetta allora la rendi ancora più ribida non avevo una minchia da fare questo sfondare tutta la montagna è una cosa pazzesca siamo saliti da quota 1200 metri grazie No, no, no! MINGHIA QUA MISAGRE CHI DOBBIAMO PASSARE DE DUTRE Questa è la 27esima piccola Questa è la 21esima di all'ora di sale Questa è bassa. Sembra che la 33 è qua. Questa è un uomo stanco. Che ha detto che non ce la fa più. Questa è un uomo stanco. 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti